E' stato un po' lungo, però alla fine si è più innamorati che mai e di conseguenza ora toccherà a me dimostrare che ha fatto bene a corteggiarmi così tanto questa società. Chiaramente arrivi in una squadra che ha già lavorato per parecchi mesi, per un mese e mezzo abbondante, ci sono i meccanismi, adesso devi conquistarti il posto. Certo, ma io sono venuto qua con questo spirito, con lo spirito del lavoro che è quello che mi contraddistintuo fino adesso. Io non ho chissà quali caratteristiche, magari anche fisiche, per essere un difensore, ma ho sempre fatto del lavoro, dell'impegno, del carattere e dell'agonismo la mia forza. Quindi è vero, sono arrivato e ho trovato già dei signori calciatori nel mio reparto, una signora squadra e comunque con un lavoro alle spalle di ritiro e tutto, ma sto cercando e comunque penso già di essermi integrato benissimo con i miei compagni e nei meccanismi indifensivi. Ora cercherò di conquistarmi il posto con merito e con tutto il sudore che potrò avere. Sai bene che l'obiettivo del Catani è vincere il campionato. Assolutamente, infatti io onestamente non ho mai giocato in una squadra così forte e che avesse questo obiettivo dichiarato e fondato su una squadra e su una società così importante. Di conseguenza è uno stimolo in più questo, è solo uno stimolo, non deve diventare un peso, ma devo essere sincero anche grazie ai compagni di squadra e ai ragazzi si intravede, si sente, si annusa questo profumo, questo odore di voglia di far bene.